25 dicembre 1977 A quattro anni di distanza dalla guerra del Kipur, che ha contrapposto Egitto e Israele, e a un mese di distanza dal loro storico incontro a Gerusalemme, il primo ministro israeliano Menachem Begin incontra di nuovo il leader egiziano Al-Sadat, questa volta al Cairo. I due capi di Stato cercano un accordo per una pace permanente fra i due Stati che verrà formalizzato l'anno successivo negli accordi di Camp David.